Oh, è un attimo! Ma un attimo cosa, è un quarto d'ora che aspetto! Queste cose succedono solo a Roma! Oh, e non alzare tanta polvere, quando ho finito me ne va! Ah, quando ho finito se ne va! Ma io chiamo i vigili, eh! Guarda te, già, i vigili! Qui a Roma quando cerchi vigili non ci sono mai! Spuntano fuori solo per fare le multe! Patente e libretto, per favore! Oh, Deo, grazie, un vigile! Ha sentito, le ha chiesto patente e libretto! Patente e libretto a lei! No, sta scherzando! Quello lì ha bloccato il traffico! Lei suonava il claxon? Sì, ma cosa c'entra il claxon? Lo suonava o no? Sì, ma perché quello lì sta scaricando la porta aerei! Turbava la quiete pubblica con ripetuti e prolungati suoni! Mi fa la multa! Fa roba da matti, sti romani! Che fa, reitera? Fareitera, cosa? Mi ha reato! Ma quale reato? Che l'ho appena detto, turbativa della quiete pubblica! Patente e libretto, favorischi! Ma cosa favorischi? Non favorisco un bel niente, terrum! Dico la patagna! Vado io a padania! Blocco del traffico, turbativa della quiete pubblica, oltraggio a pubblico ufficiale, che poi sarebbe io, resistenza e guida senza patente! Te verranno a piaccare squadre antisommosa! Si pensano che stiamo qui a cambiare aria! Si pensano! Buongiorno! Buongiorno a tutti! Buongiorno! In tutto 4.200, parmigiano 6.800, 12.000 da bufala, in tutto 23.000 alla cassa! Grazie! 12.000 a bufala! Ammazza! Bisognerebbe carcerarli! Guarda che come questa non la trovi in tutta Roma! A me la bufala ma arriva direttamente da Mondragone! Pensavo da Montecitorio! So scherzare, signor! Questo è un esercizio serio! Che noi lo controlliamo e lo facciamo rigare dritto! Meno male! Vediamo se questi prezzi sono gli stessi di ieri! Se no al sarà il freddo una bella multa, agnaleva nessuno! Vi è un po' qua! E c'è! Se lo sai che giorno è oggi? No, perché che giorno è oggi? Per terzo venerdì del mese! Che volemo fare? E che ne so! A novena! Che fai, lo spiritoso? Stai in addietrato pure dell'altro mese! Ah, sto pure in addietrato! Stai in addietrato, sì! A proposito, comandiamo coi permessi per la usla? Ah, bene, grazie! Sono venuti proprio ieri, tutto regolare! Tutto regolare? Eppure quel camion che scaricava prima è tutto regolare? Quale camion? Che stai a dire, non ho visto niente, sa! Vuoi la quera? Ma sto a scherzare, ho già preparato la bussa! Vi è, vi è con me! Vi è qua dietro! Tiè, conteli! C'è stanno pure là dietrati! Fra persone per bene, fammo affidarsi! Ah beh, meno male, grazie! E te che, Alfre? Alfre, ce la sai una cosa? Sì! Su salame è proprio buono! Sì, ma guarda che già ne ho dato uno stamattina a tua moglie! E che sarà mai? Alfre, te saluto! Oggi è giornata della corte, devo andare! Aureste, bello mio, come stai? Ma chi sei? Ma come, chi so? Sono Cesare! È il cugino di Vartere! È il padrino di Natascia e Manuel! È il compagno della scuola di Maglio! Ma che non ti ricordi? Oh! Non conoscesci uno del Sistrozio! Ma come che mi fregate Roma? È il Colosseo! Castel Sant'Angelo, Piazza Navona, Alberto Sordi, Fabrizio Bò, Bò, Bò! Monte Mario, Monte Verde, Monte Saga! Monte gonfio! Grazie! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.